ciao ragazzi e bentornati sul canale in queste settimane come ben sapete se mi seguite partita la caccia l'acquisto del dji mavic mini il nuovo drone della dji nella versione fcc ma perché l'acquisto comprandolo in america o in cina perché esistono due versioni di questo drone la nativa cinese e americana che è bloccata via firmware in fcc mondo e poi c'è quella europea che invece è in c e mod ma cosa cambia fra loro cambia la potenza e la stabilità del segnale che vi ricordo essere wifi ed è il segnale tra il drone e il radiocomando purtroppo il dji mavic mini come il dji mavic air il mio drone e il dji spark utilizza un segnale wifi a differenza dei fratelloni maggiori il mavic 1 il mavic pro 2 e il mavic zoom che invece utilizzano un segnale proprietario dji che si chiama ocu sync arrivato la versione 2.0 che è tutt'altro pianeta il wifi utilizza delle bande di frequenza dei canali che sono utilizzati anche da altri reti wifi come le reti domestiche per questo volare in aree urbane è più rischioso rischiamo di trovare tutti i canali già utilizzati e perdere la connessione con il drone anche a brevi distanze questo comporta ovviamente dei rischi al di là del fatto che il dji mavic mini e anche lo spark e anche il mavic air hanno il ritorno a casa automatico il mavic mini tra le altre cose non ha i sensori anticollisioni frontali come ha il dji mavic air quindi nel ritorno a casa se non è impostata correttamente l'altezza alla quale il drone va prima di tornare prima di girare il suo orientamento verso la linea di ritorno a casa rischia davvero di andare contro qualcosa il mavic mini con il suo peso di 249 grammi quando entrare in vigore il regolamento europeo nel luglio del 2020 potrà volare anche in scenari urbani e sorvolare persone non informate del vostro volo lo si potrà già fare da subito se lo trasformate in un trecentino per farlo bisogna montare i paraeriche bisogna registrarlo a denac bisognerà fare un'assicurazione per i trecentini che costa circa 100 euro l'anno ma torniamo alla domanda iniziale perché la caccia al mavic mini in versione fcc vi ho detto che la dji ha scelto di fare due versioni differenti del proprio drone una bloccata in cmo per il mercato europeo e una bloccata in fcc per il mercato americano in america l'unica banda di frequenza wifi concessa è la 5.8 gigahertz questa ha una potenza del segnale sul nostro dji mavic mini di un watt pari a 30 dbm sono decibel milliwatt nella ce invece è possibile utilizzare tutte e due le frequenze quindi tutte e due le ha il nostro drone e sceglierà in automatico quella che lui reputa migliore in funzione dei disturbi e dei canali liberi c'è la 5.8 come in america che però un segnale è molto molto limitato a 14 dbm sono 25 millivatt è meno della metà tant'è vero che il range dichiarato è di soli 500 metri contro la 5.8 americana che arriva a 4 chilometri un abisso in europa è libera anche la 2.4 gigahertz pari a 19 dbm che equivale 80 millivatt qui il segnale già un po più potente per reggere sino a due chilometri questi limiti sono imposti dalla legislazione io spero davvero che in europa cambi qualcosa in tal senso andiamo a vedere le differenze tra 2.4 e 5.8 alcune ve l'ho già dette la potenza del segnale inoltre la 2.4 è quella più utilizzata quindi se vogliamo in aree urbane rischiamo di trovare tutti i canali occupati la 5.8 a differenza della 2.4 è meno usata è un segnale di tipo più stabile però come vi ho detto prima è molto limitato nella potenza del segnale 14 dbm da qui il range molto basso che vi ho detto di soli 500 metri la 5.8 può essere disturbata anch'essa comunque dalla presenza di edifici e ostacoli sullo spa e sul dj mavic air la modalità ce era forzata via software il drone riconosceva tramite gps che la nostra posizione era in europa e ci faceva volare in modalità ce con le frequenze e le potenze permesse è facile con questi droni passare comunque alla fcc mode basta prendere un'applicazione fake gps che fa credere al drone che noi ci troviamo in un'altra regione tipo in america il drone ci dirà che ci troviamo in una zona diversa dal precedente volo e ci dirà vuoi passare alla nuova modalità fcc una volta che non diamo ok noi possiamo volare in fcc mode col dj mavic mini vi ho spiegato prima no sono due versioni diverse di radiocomandi due versioni diverse di droni e hanno un firmware che li blocca in c e mode o in fcc mode in soldoni è una modalità hardware e non software questo è il motivo per cui l'unico modo di volare qui in italia in fcc mode col dj mavic mini e acquistarlo dall'america o dalla cina tanti si sono rivolti quindi per il loro acquisto a negozi esteri come aliexpress banggood gearbest e il negozio americano di amazon questo perché la dj non permette l'acquisto in europa di un drone fcc ma sapete perché è ovvio perché volare in fcc mode in europa è illegale lo è sia per il dj mavic mini e sia per il mavic air o lo spark forzati fcc mode se ci beccano a volare in fcc mode qui in europa soprattutto in ambito urbano dove i controlli sono maggiori rischiamo una multa che va dai 331 euro ai 1984 euro in più le forze dell'ordine se prendono il nostro drone e vedono che non è omologato per il mercato europeo ce lo sequestrano e noi siamo soggetti anche delle sanzioni ulteriori sarà anche semplice per prodotti come il dj mavic mini vedere l'assenza del marchio ce e la presenza del marchio fcc tanti mi hanno chiesto e se acquistassimo solamente il radiocomando americano la versione fcc possiamo forzare il nostro drone ce a volare in fcc risposta ufficiale di dj è no un drone ce mode impostato non potrà volare al di là del radiocomando in fcc per volare in europa in fcc dobbiamo comprare davvero il drone in america o in cina il drone fcc potrà volare l'unica cosa che all'inizio del volo ci verrà dato un messaggio che ci ricorda che è vietato volare in quella regione in cui ci troviamo in europa nella modalità fcc con l'ok noi possiamo volare al nostro rischio e pericolo lo stesso vale per un drone ce che viene portato in america in realtà il drone ce portato in america non rischia nulla perché le potenze e le segnali sono molto basse rispetto ai limiti americani vi ho già anticipato nei giorni scorsi con dei video precedenti il mio consiglio comprate il dj mavic mini in versione ce vi ripeto sono pareri personali voi siete liberi di fare quello che volete ovviamente il primo motivo per cui acquistare il drone mavic mini in ce mode è per volare tranquilli il mavic mini avrà ulteriori possibilità rispetto ad altri droni visti suo peso di volare in zone urbane questa possibilità sarebbe vanificata se volassimo in fcc modo sempre colpa tema d'animo che qualcuno ci fermi per un controllo a mio avviso non ne vale la pena il secondo motivo anch'esso importante un drone americano avrà la garanzia valida solamente in america se noi lo acquistiamo c'è un problema dobbiamo rispedirlo in america per far valere le nostre ragioni c'è già chi ha spedito un drone acquistato dai siti che vi ho elencato prima che in caso di guasto l'ha spedito in olanda per poi farsi ricapitare un messaggio con scritto che il suo drone non era stato costruito per il mercato europeo e se voleva riparare il drone gli presentavano una bella fatturina parlando invece di dj care refresh che è l'assicurazione che ci permette in caso di danni accidentali di fare due sostituzioni del drone anche questa vale solamente nella regione del drone drone fcc solo america o cina tra l'altro per quanto riguarda il dj mavic mini la dj ha scelto di far pagare la dj care refresh solamente 39 euro 39 euro per un anno 40 euro per la prima sostituzione 49 euro per la seconda sostituzione vi lascio il link in descrizione come vi lascio il link per l'acquisto del vostro dj mavic mini sia dal dj store italia che dal sito di amazon a voi non cambierà nulla ma permetterà il mio canale di crescere e portarvi sempre contenuti nuovi vi ringrazio già da ora ringrazio tutti quelli che hanno già acquistato i loro prodotti dai link che trovate sempre nelle descrizioni del mio video è un paradosso che le regole europee limitano la potenza dei segnali per quanto riguarda i droni perché con meno potenza di segnale il rischio aumenta a maggior ragione per droni che avranno la possibilità di volare in aree urbane sopra persone non coinvolte ripeto non si tratta di range di volo non c'entra niente andare a 4 chilometri invece che a 2 si tratta di stabilità del segnale la sicurezza di vedere cosa sta facendo il nostro drone tramite un buon ritorno video vi ricordo che le regole sono di volo a vista lo sono adesso e lo saranno anche col nuovo regolamento europeo del 2020 ma un buon segnale permette di volare più tranquilli e più sereni senza rischiare che perdendo segnale parta l'rth automatico al di là della libertà che avrà maggiore il dji mavic mini col nuovo regolamento europeo io penso che enac comunque decida di far rispettare anche i droni sotto i 250 grammi gli spazi aerei quindi rispettare anche le non fly zone inutile rischiare i controlli con droni non omologatici mi sono anche dimenticato di dirvi una cosa importantissima se comprate il vostro drone dalla cina o dall'america rischiate che in dogana vedano che non è omologato per il mercato europeo ve lo sequestrino e a questo punto avete perso anche i soldi tornando al discorso controlli pensate che notizia di questa settimana il sequestro da parte delle forze dell'ordine di roma di due droni sotto i 250 grammi un dj tello che stava volando sopra la fontana dei treni e un absa desire x4 che volava sopra l'arco di costantino i droni sono stati sequestrati i piloti sono stati denunciati perché hanno violato il divieto di volo sopra la capitale ad oggi le forze dell'ordine giustamente stanno applicando i regolamenti attuali concludo parlando sempre del dj mavic mini dicendovi che comunque dj mavic mini vola bene in c mod ai limiti di legge ho visto un video tra i tanti di andrea galeazzi un mito per tutti gli youtuber italiani che portava il dj mavic mini a una distanza di 500 metri prima di avere qualche disturbo ma non si sa a che frequenza stava volando e 120 metri di altezza altezza che sarà il limite per il nuovo regolamento europeo da luglio è vero che a 120 metri ha perso il segnale ma bisogna dire due cose aveva posizionate correttamente le antenne ma stava volando esattamente sopra la sua testa e noi sappiamo che è sconsigliato perché il drone emette il segnale e lo riceve dalle antenne in laterale quindi averlo sopra la testa è sconsigliato lo dice anche la dj intorno a lui aveva delle abitazioni quindi di sicuro segnali dovuti ad altre linee wifi nel video lui dice che 120 metri è poco rispetto ai due chilometri che dice dj in realtà quando si vuole in altezza il range non può essere quello dichiarato per il volo in orizzontale questi sono tecnicismi poco importa quello che voglio dirvi che il dj mavic mini può volare bene nei limiti di legge qualora i nuovi piloti che si approcceranno a questo nuovo drone sentano che vogliono avere qualcosa di più possono passare spendendo circa il triplo a dei droni diversi alla serie mavic pro magari mavic pro 3 sperando che la dj che di sicuro lo fa uscire nel 2020 oltre al marchio c è nuovo riesca a farlo stare sotto i 900 grammi per farlo rientrare nella categoria a 1 del nuovo regolamento vi ricordo ancora i link per l'acquisto del dj mavic mini che sono in descrizione concludo dicendovi che questo nuovo drone dj non è nato per sostituire i droni molto più performanti che già oggi ci sono sul mercato ma è nato per integrarli e al massimo per sostituire lo spark questo drone anche per come è stato presentato una fly cam una camera volante un'estensione di un bastone selfie e che ci può riprendere in varie situazioni è un drone da usare davvero a vista permette delle riprese che fino ad oggi tanti che non utilizzano un drone non si sono permessi io ora vi saluto vi invito a iscrivervi al canale seguirmi anche sui social facebook e instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao